Una comunità stretta nel dolore per la scomparsa di due giovani vittime della strada. Il sindaco di Cerignola, Franco Metta, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di oggi, dopo il tragico incidente che nella notte tra sabato e domenica ha causato la morte di due adolescenti, Aurora Traversi e Agostino Antonacci, 16 e 18 anni, ancora da compiere. Vite spezzate, come l'auto sulla quale viaggiavano una Ford C-Max finita contro un palo della luce che l'ha tranciata di netto. Ad ucciderli sarebbe stata l'alta velocità. Il ragazzo alla guida, il 22enne Michele Balzano, avrebbe perso il controllo del mezzo all'altezza di Via dei Mandorli, uscendo improvvisamente di strada. Il giovane è stato sottoposto ai test per la misurazione del tasso alcolemico nel sangue, ma i valori sarebbero risultati di poco superiori al limite consentito dalla legge. Per lui è scattato comunque il provvedimento di arresto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale. I carabinieri hanno anche acquisito i filmati delle telecamere della zona per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Migliorano intanto le condizioni della quarta passeggera, la 14enne Federica Pialbanese, ricoverata presso gli ospedali riuniti di Foggia. Era seduta accanto al conducente, posizione che forse gli ha salvato la vita. Stroncate quelle dei suoi due giovanissimi amici, morti sul colpo. Dopo le ispezioni cadaveriche del medico legale presso l'ospedale Tatarella, è arrivato il via libera per la celebrazione dei funerali, oggi pomeriggio, nella cattedrale di San Pietro Apostolo. L'ultimo commosso saluto della città ai due ragazzi. Un saluto che Cerignola non avrebbe mai voluto fare.